Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Bianca L che mi chiede di parlare del film del 2010 di Takashi Miike, 13 assassini, remake del film omonimo del 1963 di Eichi Kudo da cui è tratto il soggetto, la sceneggiatura è di Daisuke Tengen e chiaramente la regia del nostro Takashi Miike per una storia di cappe e spada in un certo senso, una storia storica, è un film epico di battaglia, insomma questo 13 assassini che parte da un assunto molto interessante, ovvero Shiseumon Shimada è un nobile samurai, dopo aver constatato la crudeltà del fratello minore dello shogun attraverso appunto delle cose terribili che li fanno vedere e che non vi sto a raccontare, insomma decide di uccidere appunto questo Narizugu che appunto è il fratello minore dello shogun, il nostro quindi incomincia ad organizzare altri samurai che erano sparsi di qua e di là praticamente e tira fuori questi 13 samurai e qui nel mezzo c'è anche questo uomo insomma che dovrebbe essere una specie di dio della foresta il dio orso in un certo senso e insomma e il nostro decide di fare un attacco e concentrarlo tutto dentro una cittadina, poi si rende conto che però in realtà i nostri sono tipo 1 a 15 e che quindi la lotta sarà praticamente suicida ma ormai è lanciata la sfida e noi scopriremo anche che il generale che protegge il cattivissimo, crudelissimo perché è veramente crudelissimo e fratello dello shogun è Hanbei, un noto nemicone appunto del nostro protagonista e di lì poi tutto quello che succederà in questa meravigliosa battaglia, la Takashi Miike lo conosciamo tutti, un regista fondamentalmente unico che ha girato più di 130 film in 30 anni, un regista che è prolifico per quanto è magnifico in un certo senso, la storia di questo film è veramente gestita alla stragrande con un attore più bravo dell'altro, nel ruolo di Shimada troviamo Koji Yukusho che poi è il protagonista di Perfect Days, di Vin Vanders e di tantissimi altri film di Kurosawa, Kiyoshi e via dicendo che qui appunto interpreta alla stragrande insieme a tutti gli altri attori questa forza, questa incredibile forza di vendetta, questa incredibile forza di giustizia che sono appunto questi assassini e il film si costruisce tutto per una prima parte dove vengono inseriti tutti i vari personaggi attraverso un costume delle scenografie fantastiche e attraverso una fotografia magnifica di un nuovo Ushikita in una forma magistrale, ripeto, è tutta la costruzione d'epoca, è perfetta e ci troviamo di fronte a un film che dopo tutta la seconda parte è una battaglia continua, una battaglia che riserva però sempre come al solito con il grande Takashi Miike dei momenti di sorpresa, dei movimenti di macchina, per come viene intesa l'epica, per come arriva quel finale a spezzare tutto e tutta la prima parte appunto quando vediamo quella torturata appunto che lui vede diventare praticamente sfatta in quella scena terrificante per colpa appunto di questo infamone del fratello minore dello Shogun è qualcosa veramente di eccezionale e poi tutti i dialoghi, tutto il modo in cui il nostro Miike li mette in scena è veramente straordinario proprio perché è irresistibile nel suo mescolare situazioni quasi ironiche con situazioni drammaticissime e alcune che virano verso l'horror per una battaglia che pare veramente essere lì, un'epicità incredibile, una voglia di raccontare che va oltre la forma e diventa sostanza pura attraverso un immaginario spettacolare che racconta lo sguardo appunto di questi combattenti, di questi suicidi, di questi assassini che diventano in realtà carne morta proprio per cercare di avere un'altra volta un minimo di giustizia in un mondo dove la giustizia non esiste, quindi fantastica tutta la logica appunto che ha il secondo del nostro, Kuranaga che riesce a portare a sé tutto il resto del battaglione e poi ripeto c'è questo strano yokai appunto che loro trovano dentro la gabbia che è veramente eccezionale per come viene in un certo senso messo in scena alla stragrande Daomike che non elimina l'effetto diciamo così quindi fantastico del film ma che arriva probabilmente solo verso il finale e in tutto questo è meraviglioso come è ambientato e tutto questo è meraviglioso come è recitato e Takashi Mi che tira fuori in mezzo a capolavoro e tira fuori un'altra volta l'idea che può girare il cazzo che gli pare, passa tranquillamente da film come Audition, violentissimi, in Ichi The Killer oppure a follie come Gozu, Isu oppure a film quadratissime come questo 13 Samurai o Shinjiku True Red Society come riesce a fare i film di Yakuza, come riesce a fare le commedie, questo come riesce a fare i film pasoliniari come Visitor Q, questo è veramente un regista incredibile, Takashi Mi che è questo 13 Assassini che è arrivato anche da noi al cinema e forse uno dei suoi film più fortunati in quel senso al botteghino è conosciuto in tutto il mondo, è veramente una storia epica, potentissima che non mi dovete assolutamente perdere, il link del film è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia, ripeto, Takashi Mi che è una garanzia, qualunque film prendiate, anche quello meno riusciti hanno sempre dei tocchi di genio e questo film qui veramente ha uno stile che si avvicina a Kurosawa a volte, che si avvicina in realtà al neo cinema di cappe spada quasi hongkongense, mescola tutto insieme con un'atmosfera, una fotografia, un montaggio che sono a dir poco magnifici, quindi per me film assolutamente da vedere, vedere, vedere e rivedere mille volte.